Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Vediamo oggi la mia top 11 per la giornata numero 5 al fantacalcio Se non conosci il format, che cos'è la top 11? È la mia formazione di consigliati, schierati in un semplice 3-4-3 Quindi un portiere, tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti Evitiamo i nomi banali, i nomi scontati, i top facili di reparto Ma andiamo a fare il giusto mix tra certezze e scommesse Portando magari a casa anche un buon risultato e degli ottimi consigli Perché tutti i nomi che andiamo a vedere in questo video saranno tutti ben motivati Quindi vi spingerò anche a schierarli Prima però di partire con la top 11 ti invito a lasciare un like per supportare questo video Ma attenzione, ricordo che il like allontana la sfiga dal tuo fantacalcio Per cui se non vuoi sfortuna e solo fortuna, devi lasciare sicuramente il like Iscriviti al canale se ancora non sei iscritto È importante per non perderti tutti i contenuti che usciranno su questo canale a tema fantacalcio Ma l'iscrizione ti permette anche di commentare nelle mie live con i tuoi dubbi di formazione E ricordo che io rispondo a tutti nelle live Quindi mi raccomando per i dubbi di formazione ti aspetto in live In descrizione trovi tutti i link per supportare questo canale Come link per abbonarti, tantissimi vantaggi che ti invito a scoprire Link se vuoi registrarti su Fantalab, il tool per l'asta perfetta Super consigliato anche per la gestione della formazione In particolare la grafica che troviamo della top 11 è presa proprio da Fantalab E poi devo sicuramente ricordarti che fai ancora in tempo a partecipare a Fantacampionato Gazzetta La competizione a premi più ricca d'Italia Oltre 300.000 euro di monte premi totale E il vincitore della classifica generale vince una macchina dal valore di 50.000 euro Se vuoi giocare su Fantacampionato Gazzetta Trovi il link in descrizione per registrarti Importante, prima di partire con la top 11 Per quanto riguarda l'analisi dei portieri Troverete un post dedicato sul mio profilo Instagram Quindi ragazzi andatemi a seguire anche su Instagram Fantavirus-Fantacalcio Ma il link lo trovate anche in descrizione Bene, ora però ragazzi è tempo di partire Partiamo con la nostra top 11 di giornata In porta ci mettiamo Meret Un Meret che fino ad ora sta faticando Come un po' tutto il Napoli a livello difensivo Due vittorie nelle prime due Poi è successo qualcosa, è cambiato un qualcosa Ma non è dovuta la colpa sicuramente dell'estremo difensore azzurro Quel qualche problema ce lo ha davanti Può tornare il Rachmani dal primo minuto Chissà che non ci sia il cambio con finalmente Nathan titolare Vediamo se il Napoli riesce a trovare la quadra Almeno a livello difensivo Comunque affronta il Bologna che un qualcosa la fa Un qualcosa la crea Quindi magari non ci riesce ad assicurare il Klishit In questo momento Meret Ma credo che un bel 6 e mezzo in pagella ce lo può portare Fra i tre difensori centrali Andiamo a schierare sicuramente Christensen della Roma Un giocatore che ho visto bene Ho visto in palla Nell'ultima uscita contro l'Empoli Con un assist Con il cross che causa il rigore Dopo pochissimi secondi di gioco Sta bene Lui l'Europa non la gioca con la Roma Perché è fuori dalla lista UEFA Quindi me lo aspetto sicuramente Titolare contro il Toro Ok che il Toro di Iuri Su uno dei punti di forza Sono proprio le fasce Però lui comunque ha la personalità Il carattere e soprattutto la tecnica giusta Per poter far bene una gara del genere Come terzo nome direi Gasperini permettendo Vi dico Raffael Toloi Un nome che quest'anno ha trovato Fino ad ora poco spazio Visto che è stato infortunato È partito quindi da infortunato Adesso si è inserito pienamente nelle rotazioni Anzi si è preso il posto a titolare nell'Atalanta Però sappiamo bene Gasperini permettendo Tantissimo soprattutto con l'Europa Quindi magari Gasperini permettendo Per un giocatore estremamente affidabile Fino ad ora ha preso un solo voto Perché ha giocato una sola partita Alla quarta giornata Un 5 e mezzo Lui può ambire a un qualcosa di più Può farcelo quel qualcosa di più Per cui ve lo vado a consigliare Contro il Cagliari Che non è una squadra Che produce tantissimo a livello offensivo Come terzo nome per la difesa Vi parlo di Dodò Anche qui forse dobbiamo parlare italiano permettendo Però comunque non ha alternative di grandissimo livello Quindi ci sta anche che Posso essere considerato quasi un titolarissimo Nella Fiorentina Giocatore molto interessante Perché comunque un giocatore che sa portare a casa Il suo bel voto E un giocatore che sa rendersi utile Lì davanti Perché comunque è uno Di quei terzini Tanto di spinta Nonostante giochi arretrato Rispetto a un Christensen Ad esempio Quindi Giocatore che può fare molto bene Entrambe le fasi Che affronta l'Udinese Che in questo momento Proprio sulle fasce Abbastanza in difficoltà Andiamo sulla linea dei centrocampisti Il primo nome che vi presento È Albert Gudmundson Uno di quei giocatori Che sta facendo bene Anzi Benissimo Uno di quei giocatori Che non ha segnato Non ha portato bonus Fino ad ora Per riuscire a portare Due sette in pagella E un sei e mezzo Niente male Per un centrocampista avanzato Per un trequartista Sbarra seconda punta Un giocatore che Teoricamente Se non segna Se non fa assist Il voto buono A casa non dovrebbe portarlo Però lui riesce comunque A portarcelo Questo buon voto A casa Aggiungiamoci Anche che Il bonus Sta per arrivare Anche per lui Non sottovalutatelo Non tenutelo fuori Nemmeno Contro il Lecce Aggiungiamoci che comunque Il Lecce Sì Squadra prettamente Casalinga Per rendimento Soprattutto a livello Difensivo Però manca Baschirotto Potrebbe essere Un'assenza Veramente importante E Gudmusson Potrebbe Trovar La via Del bonus Per la prima Giornata Per la prima volta In questo campionato Come secondo nome Scommessa purissima Ci mettiamo Baldanzi Partita tostissima Contro l'Inter Abbiamo visto che fine Ha fatto l'Empoli Contro la Roma 7 a 0 Si è schiantata L'Inter in questo momento Ha anche una squadra Abbastanza schiacciasassi Ha schiacciato il Milan Con 5 gol Un gol subito Fino ad ora Un solo gol preso Sicuramente la partita Non è facile Però ragazzi Lo scorso anno Nel periodo negativo Dell'Empoli Nel periodo positivo Dell'Inter La prima sconfitta Il 2023 Nera Azzurro È arrivato Proprio Per mano di Baldanzi Per mano dell'Empoli Per 1 a 0 Si giocava in Toscana Questa volta si gioca in San Siro Chissà che il cerchio Non possa essere quindi chiuso Da chi l'ha aperto Ovvero Da Baldanzi Come terzo nome Ci mettiamo Strefezza Ci metto due centrocampisti Della stessa partita Lecce e Genoa Però ragazzi Si è fortunato Bandà Avevamo tanto detto Di Strefezza Come nome Che in questo momento Nel Lecce È un po' fuori Dal giro dei titolari Però con gli infortuni di Bandà Si riaprono per lui Le porte della titolarità Occasione da cogliere Occasione da sfruttare E uno come lui Con la sua tecnica Con la sua importanza Va sicuramente messo Perché può sfruttare Questa chance E magari Tornare a segnare Sua azione Ultimo nome Candreva Un Totò Candreva Che affronta il Frosinone In questo momento È il leader assoluto Della Salernitana Da capire che cosa succede Boulaglia di A Se gioca o non gioca Però comunque Lui è il leader assoluto In questo momento È il leader di riferimento Di questa squadra Maggior riferimento Per il centrocampo Ma anche per le sorti Offensive Della squadra Se la Salernitana Riesce a far qualcosa In questo suo momento Anche negativo La Salernitana Che ancora non ha vinto Nemmeno una partita Di questo campionato Candreva Un qualcosa Ce la fa sicuro Al cento per cento Andiamo all'attacco Dove troviamo Vi dico un attacco Strano Perché ci metto Due scommesse Due grosse scommesse Post Europa E una certezza Perché comunque Mettendo due scommesse Di quel calibro E adesso le andiamo a vedere Devo metterci una certezza Partiamo magari Dalla certezza Che è Dusan Blaovic Il nome forse Banale Un giocatore che quest'anno Sta veramente molto molto bene Sta facendo benissimo Affronta Il Sassuolo Che è lì dietro Messo bene sicuramente Non è Blaovic Informissima Uno dei giocatori Che tira di più In porta Del nostro campionato Fino ad ora Nelle prime quattro giornate Due tiri in porta Di media partita Che non sono nettamente Male Sta segnando tanto Ha fatto ben Tre gol In quattro partite Sta veramente molto molto bene Va sicuramente schierato Al fantacalcio I due nomi scommesse Chi sono Il primo è Luis Muriel Un Luis Muriel Che potrebbe avere la chance Da titolare Ma anche dalla panchina Con un buon minutaggio Nell'Atalanta Perché si è rotto Scamacca E rotto Touré Effettivamente Una prima punta Non ce l'ha in questo momento L'Atalanta Quindi O si adattano De Ketelare O Lukman O Gasperini Lancia Il buon Muriel Il buon Muriel Che comunque Un giocatore Che negli scorsi anni Ha fatto veramente molto bene Ormai si è arrestato da due anni Però chissà Che non potrebbe Avere Un' Inaspettata Rinascita Da un momento all'altro Quando nemmeno Il suo Gasperini Se lo aspettava Come terzo nome Mettiamo Tati Castellanos Che potrebbe trovare La chance da titolare Dal primo minuto Al posto di Ciro Immobile Post Champions League In considerazione del fatto Che nella prossima settimana Ci sarà anche il turno Infrasettimanale Quindi Può arrivare una chance Per Castellanos Contro il Monza Potrebbe anche far bene Quindi attenzione ragazzi Se lo avete Occhio Possibile chance in arrivo Possibile chance Anche per il fantacalcio Non sottovalutatelo Quindi Bene ragazzi Per questo video è tutto Ricordo a tutti Di lasciare un bel like Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi